E' in calo l'indice RT del Molise che ora è a 1 mentre la settimana scorsa era 1.17. E' quanto emerso dal consueto monitoraggio settimanale condotto dal Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità ed è riferito alla settimana che va dal 22 al 28 marzo. Il dato è sostanzialmente in linea con quello nazionale. L'indice italiano infatti è sceso a 0,98 mentre venerdì scorso era 1,08. Per il Molise si va dunque verso la conferma della zona arancione anche per la prossima settimana a partire da martedì. Dati che dunque confermano la situazione di lento e graduale miglioramento. Intanto dopo qualche giorno di tregua però si registrano nuove vittime. Sono 4 le persone decedute nelle ultime ore. Si tratta di un 74enne di Agnone morto nella sua abitazione, un 80enne di Campomarino deceduto in malattie infettive, una donna di 64 anni di Santa Croce di Maliano e un 52enne di Torella del Sanio deceduti entrambi in terapia intensiva. 4 i nuovi ricoveri in malattie infettive ma ci sono anche 5 pazienti dimessi dallo stesso reparto. 33 positivi sui 562 tamponi processati con il tasso di positività del 5,8%. E a Riccia il comune con il maggior numero di nuovi contagi, 5, seguono Baranello, Campobasso, Campomarino, Toro con tre numeri inferiori negli altri comuni interessati dal Covid. Il bollettino Asrem parla anche di 41 guariti. Si allenta la pressione sugli ospedali. Al Cardarelli ricoverati sono 60 di cui 8 in terapia intensiva. Due quelli ricoverati al Santimotio di Termoli, tre al Gemelli, quattro al Neuromed. Gli attualmente positivi sono 846, le vittime in totale sono 444, mentre i guariti sono 11.104. Sul fronte ai vaccini sono 68.344 le dosi somministrate, pare al 92,45% di quelle consegnate, che sono 73.925.